Perchè? Perchè? Ditemi, ci hanno mentito, i nostri giorni quelli ci hanno mentito, sì, le distrazioni isteriche dei giorni, tutti uguali, tutti uguali, tutti, tutti uguali, tutti... Allena l'occhio a guardare, allena l'occhio a guardare bene, guarda tu stesso. Rivoglio le mani, rivoglio la delicata linea, rivoglio ciò che era mio solo, mio, lo rivoglio ora, che era mio, era mio sì, che lo era prima, è delicato, delicato, rivoglio il sentire, il crescere, rivoglio il restare, rivoglio il bello tutto ed il nero del mare, l'ombra lunga rivoglio, la braccia azzurra che scalda, che fa ferita e cicatrice, rivoglio la ferocia del fuoco, la meraviglia, rivoglio del fuoco che illumina tutto, che ustiona tutto il male, tutto il male ancora, che tutto il male ancora rivoglio, voglio mangiarlo tutto, farci l'amore tutto per intero, bruciare tutta e mille, mille mani e morsi e graffi, mille, mille mani e morsi e graffi che faccia male, faccia male contro la pelle, contro la faccia, contro la pancia pure faccia male che rivoglio, rivoglio ancora, rivoglio ancora sempre il fare male della pancia più dentro, più dentro, più in fondo, allena l'occhio a guardare, allena l'occhio a guardare bene, allena il sangue, allena il sangue a sentire, impara, tu stesso impara, tu stesso impara, tu stesso grazie Enzo Campi, grazie a Bologna in Lettere per questo invito e ancora grazie a voi